E voilà! Grazie, mi ha fatto proprio un bel cuore. Prendiamo un caffè per favore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vorrei delle paste, per favore. Certamente, signora. I nostri dolci sono i migliori, i più belli da vedere. Sa, noi siamo molto attenti all'estetica, alla forma, alla pulizia. Due brioche e poi una sfoglia. Due brioche e una sfoglia. Guardi, guardi come sono venute perfette queste paste. Sai, io non tollero le diversità. Io amo il mio lavoro, sono un perfezionista. Il lavoro è importante e bisogna farlo bene. Ma sa cos'è fondamentale oggi come oggi, signora mia? E avere un lavoro è l'incarto. No, non sono per me. Le porti a lui. No, non sono per me. No, non sono per me. No, non sono per me.